ciao e ben ritrovati per un nuovo tutorial quest'oggi vi insegnerò vi farò vedere appunto un brano di laura pausini primavera in anticipo allora non perdiamoci in chiacchiere qui sotto trovate sempre il pdf da scaricare appunto per seguire il tutorial e per imparare a suonare la vostra canzone groove base del brano che vede sia sulla strofa e ritornello ottavi appunto di charleston o di ride come nel ritornello cassa sull'uno rullante sul due sul tre due colpi di cassa quindi due ottavi sul quattro rullante troveremo alcune variazioni in cui ci sarà appunto sul due sul secondo ottavo un altro colpo di cassa o come vedremo nella prima strofa troveremo sul quattro un colpo di cassa sul secondo sedicesimo comunque cercheremo di guardarle appunto durante il tutorial allora partiamo con introduzione e la prima parte della strofa in cui la batteria non c'è sesta misura appunto dopo l'inizio della strofa che vede un colpo sul tre di timpano e tom semplicissimo quello che potete fare se no è suonarlo tutto sul timpano e quindi con un leggero flam successivamente prima di arrivare alla seconda parte della strofa troviamo due misure in cui sempre charleston in ottavi sulla prima troviamo un colpo di cassa sull'uno e sul secondo ottavo del quattro sulla seconda misura invece troviamo sempre un colpo di cassa sull'uno sul secondo ottavo del tre e sul quattro un flam sul rullante altra parte della strofa che vede appunto una variazione sulla seconda misura dopodiché un feel che ci porta su un'altra parte feel che vede sull'uno colpo di cassa sul due colpo di rullante sul tre abbiamo due colpi di cassa quindi sul primo ottavo e sul secondo attenzione che sull'ultimo sedicesimo abbiamo appunto un colpo di rullante sul quattro sul primo ottavo rullante sul secondo a seconda di come volete voi vi faccio vedere la parte della strofa e successivamente appunto questo feel sto fa che prosegue abbiamo un feel prima del ritornello sull'uno abbiamo primo ottavo puntato di cassa e ultimo sedicesimo sempre sulla cassa sul due rullante sul tre due ottavi uno sul primo tom e poi sul secondo tom sul quattro abbiamo i primi due sedicesimi sul rullante e il secondo ottavo sul timpano ritornello che vede appunto delle variazioni su quello che sono i colpi di cassa quindi dell'aggiunta di ottavi sul secondo ottavo del due e sul secondo ottavo del quattro sono molto semplici quindi basterà poi seguire bene il pdf comunque adesso ve lo suono dopodiché troveremo un piccolo feel che ci riporterà alla strofa successiva feel che vede appunto cassa sull'uno rullante sul due sul tre abbiamo primo ottavo e ultimi due sedicesimi sempre sulla cassa sul quattro primo ottavo con un flam sul timpano e secondo con la cassa misura successiva che fa parte sempre della fine del ritornello cassa sull'uno sul due sempre cassa sul secondo ottavo sul tre abbiamo primo ottavo puntato e ultimo sedicesimo di cassa sul quattro abbiamo due ottavi il primo con un flam sul timpano il secondo con una leggera apertura appunto suonando il charleston ora vediamo tutta la parte del ritornello con appunto queste due misure stoffa successiva che vede appunto charleston suonato in quarti sulla prima misura abbiamo cassa sull'uno altra cassa sulle vale del due e poi sul tre sulla seconda misura abbiamo cassa sull'uno sulle vale del due sul tre abbiamo sempre un ottavo puntato di cassa e poi sull'ultimo sedicesimo un altro colpo di cassa sul quattro un colpo di rullante si ripetono poi queste due misure ma sulla seconda anziché avere sul quattro un colpo solo sul rullante avremo rullante e timpano si ripetano ancora le due misure con il rullante sul quattro della seconda misura un'altra ripetizione che però vede sulla seconda misura cassa sull'uno sulle vale del due quindi sul secondo ottavo del due un altro colpo di cassa un altro colpo di cassa sul tre ottavo puntato poi sull'ultimo sedicesimo abbiamo un colpo di rullante sul quattro due ottavi il primo su rullante e il secondo in questo caso sempre o su tom o su timpano vi faccio vedere tutta questa parte tutte queste sei misure ritorniamo poi successivamente sempre strofa il nostro groove base e vediamo appunto come lancio per poi arrivare al secondo ritornello questo fill cassa sull'uno poi tutto in ottavi un crescendo su rullante e timpano fino al primo ottavo del tre dal secondo ottavo del tre tutti sedicesimi su rullante sempre tutto in crescendo ritornello che vede sempre il nostro groove tutto con ostinato sul ride abbiamo due piccoli fill sulla quarta e sull'ottava misura non sono proprio dei film ma ci sono dei colpi che siccome sono belli ve li spiego allora sulla quarta misura troviamo sull'uno cassa sul primo ottavo e sugli ultimi due sedicesimi sul due abbiamo due ottavi di rullante sul tre abbiamo primo ottavo di cassa sul secondo ottavo vi ho inserito sempre cassa insieme al timpano o se no potete fare solo il timpano sul quattro rullante e crash ottava misura invece quindi secondo fill più o meno sull'uno primo ottavo puntato di cassa e ultimo sedicesimo sempre di cassa sul due primo ottavo sul rullante secondo di cassa sul tre ripetiamo la figura quindi primo ottavo puntato di cassa e ultimo sedicesimo sul 4 un bel quarto un bel flam sul timpano il nostro special attenzione sul secondo e sul quarto quarto quindi sull'uno e sul tre non suoniamo il nostro charleston colpi di cassa sull'uno e sul secondo ottavo del quattro per la prima misura la seconda misura solo un colpo di cassa sull'uno ripetiamo le due misure ma attenzione sulla seconda misura aggiungiamo un colpo sul secondo ottavo del tre di cassa e sul quattro un bel colpo di rullante ripetiamo di nuovo le misure come le prime due dopodiché vediamo sull'ultime due misure prima di ripassare all'ultimo ritornello la prima sempre cassa in quattro e anche il charleston sempre in quattro sull'ultimo abbiamo un fill sull'uno abbiamo primo ottavo sulla cassa secondo ottavo rullante e timpano sul due abbiamo primo ottavo rullante e timpano e secondo un flam sul rullante sul tre abbiamo due ottavi rullante timpano e sul quattro abbiamo i primi due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano vi faccio sentire tutta la parte dello special ritornello che appunto vede anche qui i fill che cambiano sul quarta misura e sull'ottata primo fill sull'uno primo ottavo puntato di cassa e ultimo sedicesimo sul due rullante sul primo ottavo e cassa sul secondo ottavo sul tre abbiamo primo ottavo di cassa e secondo cassa e timpano o tom sul quattro abbiamo primi due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano attenzione sul due troviamo insieme al colpo di rullante il crash ottava misura che più che un fill vede un appoggio che ci porta poi al nostro finale groove base fino al tre in cui vediamo sul primo ottavo puntato un colpo di cassa e poi se un ultimo sedicesimo un altro colpo di cassa sul quattro appunto un flam sul timpano ultime misure tutto in ottavi sul charleston prima misura che vede cassa sull'uno sul secondo ottavo del tre e rullante sul quattro seconda misura che vede cassa sull'uno sull'ultimo sedicesimo del tre e sempre un rullante sul quattro si ripetono le due misure ma sulla seconda anziché suonare sul quattro rullante suoneremo il timpano successivamente troviamo sempre tutto in ottavi il nostro charleston cassa sull'uno rullante sul due sul tre sul quattro solo il charleston misura successiva che vede cassa sull'uno sul secondo ottavo del tre sul quattro abbiamo rullante sul primo ottavo e cassa sul secondo ultima misura che vede cassa sul primo quarto e sul quattro sul secondo ottavo chiudiamo con un colpo di cassa e il charleston quindi di per sé il nostro brano finirà in levare vi faccio vedere tutta la parte del finale ok non vi resta che scaricare la partitura e aiutarvi imparare e suonarvela ragazzi se appunto vi è piaciuto mettete un bel like se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche perché cerchiamo sempre di inserire nuovo materiale e mi piacerebbe appunto darvi anche spunto per divertirvi insomma per suonare al meglio le vostre canzoni e magari anche qualche esercizio utile non mi resta che salutarvi e come sempre augurarvi un buon divertimento e un buon groove alla prossima ciao grazie